Un anziano di 88 anni è il primo decesso per coronavirus nella regione Marche. L'uomo è ispirato questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano, il nosocomio che fa parte di Marche Nord. Era ricoverato dal 24 di febbraio scorso per febbre alta e anche per difficoltà nella respirazione. Un pensiero alla vittima, alla persona, alla famiglia di vicinanza perché quando accadono queste cose è sempre un momento triste. Fano tocca con mano il dramma del coronavirus. La prima vittima delle Marche è un anziano, ospirato a Santa Croce dopo il ricovero che risaliva al 24 di febbraio. Febbre alta, crisi respiratoria ad aggravare un quadro clinico con altre patologie pregresse. La provincia di Pesaro-Orbino è in trincea contro il Covid-19 come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. Fascia gialla come il territorio di Savona, chiuse le scuole, i cinema, gli stadi e i teatri fino all'8 marzo. Al ristorante si entra ma solo se c'è almeno un metro tra un commensale e l'altro e questo vigi anche in chiese e musei. È chiaro che c'è chi si allarma, chi la vive con più distacco, però nel suo insieme con la maturità che ha capito che non siamo in una situazione di normalità, anche se c'è il doppio gioco di parola, però lo fa con senso di responsabilità. La città è meno affollata del solito, questa mattina ho girato un po', ho visto meno gente del solito, però devo dire che lo fa con una certa preoccupazione ma senza esagerare. Ed è il giusto approccio che deve avere una città. In fondo è una città abituata anche ad affrontare emergenze perché, dicevo, in questi anni veramente a Fanno non ci siamo fatti mancare nulla, ci è capitato di tutto, dalla bomba al terremoto, alle nevicate, al maltempo, la meteorite dei giorni scorso, però ha sempre affrontato con grande professionalità, tempismo e concretezza. E quindi abbiamo sempre superato le situazioni e penso come faremo anche in questa fase. Da Fano a Pesaro, dove domenica 1 marzo 30 stringhe luminose sono state accese lungo via Passeri per 391 lettere, con i titoli delle opere di Rossini nel tratto di passeggiata dal teatro al Museo Nazionale dedicato al Cigno. Qualcuno ci ha detto che dobbiamo smettere di diffondere l'ottimismo, ha spiegato il sindaco Matteo Ricci. Noi continueremo perché vogliamo che la città torni gradualmente alla normalità per il bene della comunità. C'è grande fiducia nelle strutture sanitarie, stanno facendo un ottimo lavoro. La città non è in una situazione emergenziale perché da noi non c'è il focolaio del virus e anche perché la metà dei casi positivi, ha concluso Ricci in provincia, è guarito o in via di guarigione.